Il 4 maggio è alle porte e l'unica destinazione possibile per il prossimo weekend è Napoli. Se siete dei fan di Star Wars, non potete perdervi lo Star Wars Day 2018 in programma a Napoli e Caserta dal 4 al 6 maggio. Il motto della manifestazione continua a essere l'ormai noto May the Fort Be With You. Il gioco di parole tra force, forza e fort, 4 ha dato origine alla simpatica modifica e ha fatto nascere la tradizione dei festeggiamenti in data 4 maggio. A voler essere pignoli, infatti, la prima uscita al cinema della saga di Guerre Stellari risale al 25 maggio del 1977. Ma scopriamo insieme gli eventi in calendario per lo Star Wars Day 2018, manifestazione organizzata in collaborazione con il Comicon e riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. I festeggiamenti iniziano venerdì 4 maggio presso il MAN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L'evento prevede la presenza delle legioni e dei gruppi di costumini internazionali, tra cui la Galactic Academy Varaykino Campus Italia e il Dark Side of Naples, storico gruppo specializzato nelle performance acrobatiche a tema Guerre Stellari. Alle 18,00 ci sarà anche l'inaugurazione della mostra MAN Nero, gli eroi del mito dall'antichità a Star Wars. La mostra è organizzata in collaborazione con l'archeologo Mario Grimaldi e con lo scenografo Ciro Sapone, che ha lavorato con George Lucas alle riprese dell'episodio 1 e dell'episodio 2 presso la reggia di Caserta. Ma non è finita qui. Sabato 6 maggio il MAN si immerge completamente nelle atmosfere di Star Wars grazie alla realtà virtuale. La statua di Atlante nel Saloni della Meridiana sorreggerà la morte nera invece della Sfera Celeste, mentre la statua di Ercole Farnese sarà affiancata dalle armi e dalla maschera di Darth Vader. Infine, il naoforo egizio porterà al collo una stele con la statua di Anzolo ibernato nella graffite. Sarà messa a disposizione anche un'applicazione sviluppata per l'occasione, che racconterà gli eroi di guerre stellari mettendoli a confronto con quelli della mitologia classica. Infine, una sala speciale verrà dedicata alle creatività italiane di prop-machine ispirate a Star Wars. Potrete quindi scattarvi delle foto ricordo davvero indimenticabili. La reggia di Caserta ospiterà gli eventi dello Star Wars Day 2018 di sabato 5 maggio. Potrete visitare i set originali delle riprese di alcune scene degli episodi risalenti al 1999 e al 2002. All'epoca, Gerogge e Lucas scelse personalmente i punti in cui girare le scene, aiutato da Ciro Sapone. Lo scenografo ha curato anche gli allestimenti presenti all'interno dei saloni della reggia di Caserta, dove avrete la possibilità di tuffarvi nella storia della saga. Allora cosa ne dite? Andrete a Napoli e Caserta per celebrare la vostra passione per Star Wars?